Nove nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo. Attualmente 23 pazienti a cui è stato diagnosticato il covid-19 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre uno è ancora ricoverato in terapia intensiva. 197 invece sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sono 221 gli attualmente positivi in Abruzzo che, sottraendo il numero dei guariti, sono due in più rispetto a ieri. Questi numeri dell'assessorato regionale alla sanità, mentre un caso avvasto è ancora sospetto e non rientra nel conteggio appena citato. Un 21enne infatti è rientrato nel comune in provincia di Chieti da Malta. Al termine di una vacanza studio, durata tre settimane, il ragazzo si è presentato all'ospedale Sampio con sintomi quali febbre e tosse ed è stato sottoposto all'attack che ha evidenziato una polmonite interstiziale. Il tampone per il covid ha dato esito positivo ma occorrerà attendere, come da norma, il secondo tampone di controllo per accertare il contagio. In questa fase sono i giovani, quelli maggiormente a rischio, ha sottolineato Maria Pina Sciotti, responsabile dell'unità operativa di malattie infettive, perché mostrano in sofferenza verso le misure di protezione e non rinunciano a trascorrere le vacanze in luoghi che fanno registrare un numero di contagi elevati, ha concluso la dottoressa del Sampio di Vasto.